Chi sta bene può andare a donare sangue ed è meglio che prenoti perché sia garantito che non ci siano affollamenti di persone. E questo l'invito dichiara Donadelli, presidente provinciale della Fidas, donatori volontari di sangue di Verona. Diciamo che la risposta dei donatori è stata veramente commovente. Sono moltissime le persone che si stanno recando ai cinti trasfusionali. A questo proposito mi raccomando di prenotare perché prenotando possiamo evitare gli assembramenti e possiamo anche programmare bene la raccolta del sangue. Ci rendiamo conto che in questo momento molte persone chiamano e dicono non ci rispondono. Il problema è, anzi il problema, la grande fortuna è che i centralini sono veramente intasati grazie alla generosità dei donatori. È vero che in questi giorni tanti interventi chirurgici non urgenti sono stati rimandati, ma il bisogno di sangue resta anche per essere sempre pronti. Allora il bisogno di sangue rimane costante. È chiaro che in questo momento sono state chiuse le chirurgie, di conseguenza c'è bisogno del sangue per le terapie. Quello che infatti noi raccomandiamo di prenotare è anche perché una programmazione fa sì che molte sacche saranno disponibili anche quando finalmente le chirurgie riapriranno. Di conseguenza ecco la raccomandazione è prenotate che sanno benissimo le ragazze e tutti i volontari quando la vostra donazione sarà ancora più preziosa.